Grazie a tutti. Eravamo sul grafico 30 minuti nel tentativo di superare verso l'alto la V-Stop, avevamo visto tre tentativi, ci eravamo fermati qua e quindi nel caso venerdì ci fosse stato il trigger giusto con i dati sull'occupazione, il possibile target era la media 200 discendente. Poi noi il venerdì ragioniamo sulle candele weekly quindi mi riaggancio al video di giovedì per dar seguito anche a quello che diciamo durante la settimana. Avevamo seguito questa configurazione intraday interessante perché c'era un target chiaro a 4.300 che coincideva anche col target su scala daily ma anche sull'intraday con questa famosa media 200 periodi sul 30 minuti dello spy che è un grafico abbastanza significativo, una scala temporale abbastanza significativa. Allora quindi venerdì siamo andati a target, oggi apertura con un gap ribassista rispetto alla chiusura di venerdì anche a causa delle tragiche notizie provenienti dal Medio Oriente nel corso del fine settimana e poi lento e progressivo recupero con superamento di 4.300 e della media 200. Adesso manca circa un'ora alla chiusura quindi vedremo dove chiuderà un'uscita di una sola candela fatta così con divergenza di DMI con il mercato dei bond chiuso, oggi c'era il mercato cash dei bond chiuso, c'era soltanto il future, c'erano soltanto i future aperti quindi generalmente quando i bond sono chiusi anche l'attività sull'equity va presa un po' con le molle, comunque diciamo che siamo andati a target, ci aspettavamo questo pullback, questo ritorno sulle medie, sulle scale intraday e questo è avvenuto, diciamo che siamo a target, ora vedremo domani con appunto la riapertura del mercato dei bond e cominceranno a uscire dati macro, oggi non c'erano dati particolari in uscita quindi vedremo poi gli sviluppi, ricordo che siamo nell'ambito per il momento di un rimbalzo su una tendenza primaria torno sulla scala daily per far vedere di cosa stiamo parlando, di una scala, ecco questa è la scala daily dello SPI una tendenza primaria che resta per il momento ribassista perché siamo in presenza di massimi decrescenti, minimi decrescenti la V-stop nera che fa da resistenza quindi possibile ulteriore target, ecco qua c'è questo gap anche molto importante del 21 settembre quindi se questo movimento di rimbalzo dovesse proseguire la prossima area target direi sull'SMP è 4370, 437 dell'ETF SPI ecco quindi cosa ha favorito oggi questo movimento dell'SMP? L'andamento dei rendimenti, come abbiamo detto il mercato cash era chiuso però hanno aperti i future e anche complici le tensioni internazionali e i tragici eventi, questi generalmente portano una serie di conseguenze movimenti a rialzo sull'oro e sul petrolio, li vedremo fra poco, e rialzo anche dei bond, quindi calo dei rendimenti, scala 30 minuti break al ribasso sul 30 minuti della media a 200, quindi anche qua un segnale bearish che in parte anche qui ci attendevamo perché proprio nel video di venerdì dove tra l'altro comunque stiamo facendo l'analisi su Scala Weekly avevamo proprio titolato il video rendimenti USA top in arrivo, rendimenti negli Stati Uniti top in arrivo chi non l'avesse visto può andare a vedere perché eravamo arrivati a queste conclusioni di tipo tecnico e qui a quanto pare il top è arrivato praticamente il giorno dopo perché questa è una configurazione interessante di doppio top sull'intraday con obiettivo, probabilmente si potrebbe andare a rivedere questo gap del 29 settembre in area 4,6, 4,6 parliamo di rendimenti ricordo che abbiamo sfiorato il 5, quindi comunque un 0,4 al ribasso è un movimento importante e quindi i mercati azionari che ancora ragionano in termini di correlazioni con i rendimenti, quindi i rendimenti bassi, l'equity viene favorita ecco perché in automatico gli algoritmi reagiscono con acquisti sull'equity e in particolare con acquisti sul Nasdaq che è quello più sensibile ai rendimenti l'avevamo detto giovedì che eravamo la configurazione ecco mentre gli altri battevano sulla V-stop il Nasdaq l'aveva già rotta nella giornata di giovedì era molto più vicino alla media 200 e il Nasdaq si è portato è uno step avanti perché è andato anche a chiudere il gap qui ribassista del 21 settembre di cui parlavamo poco fa invece il Nasdaq quel gap lo ha già chiuso quindi anche qua attendiamo conferme che continueranno queste correlazioni tra i rendimenti e l'indice dei tecnologici perché diciamo che attendiamo conferme perché da un certo punto di vista macro la situazione è completamente diversa rispetto a quella di anni fa dove questa correlazione era assolutamente automatica proprio perché era l'ondata di liquidità delle banche centrali che consentiva ai prezzi degli asset di crescere adesso invece c'è aria di rallentamento delle economie quindi insomma tutta una serie di fatti che creano delle discrepanze che poi sono quelle che abbiamo visto analizzando gli indici tipo il Russell quindi abbiamo il Nasdaq che continua a ragionare alla vecchia maniera trascinato dai 7 leader, dai fantastici 7 a mega capitalizzazione e poi abbiamo il Russell che è vicinissimo ai minimi del 2022 non ripeto cose già dette se volete chi non l'avesse visto andare a vedere il video precedente quello di venerdì dove trattiamo questi argomenti torniamo alla giornata di oggi l'Europa ha sofferto molto di più ovviamente quello che è accaduto in Medio Oriente perché chiaramente l'Europa è molto più esposta quindi giornata di grande prudenza anche per il DAX andamento negativo rispetto alla chiusura di venerdì che era stata una chiusura positiva oggi abbiamo lavorato all'interno del range di venerdì quindi comunque una candela di transizione il mercato si è messo in attesa però anche in Europa ecco tutto quello che sta accadendo una conseguenza ce l'ha avuta sui rendimenti guardate il decennale tedesco che era già diversi giorni che non seguiva più le escursioni al rialzo del decennale americano e guardate la differenza la media 200 rotta in maniera decisa è già andato a target a 2,75 abbiamo dei target più in basso 2,75 è un vecchio massimo quindi qua si potrebbe configurare addirittura una bull trap in caso di ritorno sotto 2,75 continuiamo a seguire nei prossimi giorni perché questo è un movimento molto importante del decennale tedesco ecco poi abbiamo detto dell'oro l'oro stamattina, stanotte anzi già a mezzanotte quando ha riaperto il mercato dei futures si è svegliato con un gap al rialzo importante chiude con un più 1,27 in una giornata tutto sommato in trading range per ora nelle ultime ore sta ricominciando a salire verso l'alto siamo qui sempre su scala 30 minuti passiamo un attimo sul daily giusto per vedere ecco la candela di oggi una bella espansione verso l'alto già venerdì c'era stato un cenno anche qua di rimbalzo normale perché eravamo arrivati a target a 1810 il target che avevamo individuato dopo la rottura di questa configurazione a cuneo di cui abbiamo parlato ampiamente nei video dell'epoca quindi parliamo della terza settimana di settembre chi segue queste cose le sa poi mega movimento ribassista continuo senza nessun pullback quindi anche qua assolutamente normale un target a 1880 di questo movimento anche solo se fosse un rimbalzo se andasse a 1880 non si meraviglierebbe nessuno visto il livello di eccesso che era stato raggiunto da tutti gli indicatori in questa fase di discesa l'altra conseguenza è per il petrolio perché poi ovviamente qua ora si innestano voci Iran, embargo, Hormuz, destra-sinistra non entro in argomenti che esulano dal contenuto di questo canale però è chiaro che ecco il gap che si è creato tra venerdì e l'apertura di stanotte a mezzanotte e quindi poi tutta giornata ecco qua invece un andiamo sul 30 minuti un gap molto ampio anche qua in trading range però il salto è stato maggiore un più 4,42% anche in questo caso sul 30 minuti stiamo andando a rompere la media a 200 torno sul daily e qui c'è questa battaglia su 84 perché abbiamo sul petrolio queste forze contrastanti questo ribasso dei giorni precedenti molto pesante che ha coinciso con alcuni dati economici che hanno fatto protendere per un bis di quello che abbiamo visto mesi fa qui aumenta il taglio alla produzione siamo andati a testare le resistenze poi siamo venuti giù perché? perché è calata la domanda qua in questi giorni sono venuti fuori anche i dati sulle scorte che sono notevolmente aumentate pare ci sia stato un calo di consumi di carburante negli Stati Uniti quindi tutti segni che ci sono cali di domande importanti che potrebbero neutralizzare i tagli alla produzione che sono stati fatti finora quindi continuiamo ad avere questi saliscendi sul petrolio dal punto di vista tecnico 84 non sparti acqua è molto importante infatti ci stiamo saltando dentro dentro e fuori come vedete con molto nervosismo da diversi giorni è una soglia importante abbiamo detto e ci aveva anche intitolato il video attenzione alle bull trap se torniamo sotto 84 si aprono scenari molto più in basso che del petrolio ecco però gli eventi di questo fine settimana quando vi dico sempre che i nostri sono scenari probabilistici no? perché è chiaro se io vengo giù rirompo al ribasso 84 però poi succede quello che succede ecco il gap e chi ha il gap cos'è? il gap indica un cambiamento importante di situazione che il mercato non si attendeva è quello il gap gap significa c'è una fortissima differenza tra quello tra quella che è la situazione del mercato tra quella che è l'equilibrio domanda e offerta il lunedì mattina o il domenica sera che ora era quando è riaperto rispetto al venerdì pomeriggio è successo qualcosa questo quando ci sono i gap significa che nel frattempo c'è stato più spesso che no un evento importante quindi se qui la situazione è cambiata sì io qui ho la bull trap però oggi sono già di nuovo ritornato sopra quindi io mi attendo una fase adesso qua di confusione di battaglia e chi comanda sarà questo range quest'ultima espansione al ribasso quindi vediamo la parte alta a 89 e la parte bassa ovviamente 82-84 che fa ancora da supporto molto nervosismo anche in Europa sul mercato del gas questo è il TTF oggi che salta del 12% sulla notizia del sabotaggio del gasdotto tra Estonia e Svezia se non vado errato quindi possibili interruzioni di forniture quindi schizza del 12% a punto di vista tecnico qua non è successo assolutamente nulla su Scala Daily perché siamo ancora all'interno di questa ampia fascia di consolidamento che sta andando a far ricongiungere i prezzi con la media a 200 scusate sì verrei subito alle richieste perché non abbiamo molto tempo poi comunque domani torneremo un po' su tutti questi argomenti una volta che riapre il mercato dei bond richieste importanti un amico chiedeva a proposito di bond i bond dei paesi emergenti se potevano esserci segnali interessanti allora segnali di reversal qua non ce ne sono però siamo andati sotto l'importante supporto di 76 che aveva retto tante volte in precedenza su cui si erano formate delle divergenze importanti e ci siamo andati senza l'estensione verso il basso che ci si sarebbe potuti attendere quindi anche qua occhio alla possibile bear trap in questo caso cioè un rapido rientro sotto 75 89 quindi sopra 76 potrebbe essere un segnale interessante ma al momento questo non c'è quindi attenzione non immaginiamo le cose che non ci sono dobbiamo semplicemente fare gli scenari per il momento qui il trend resta invariato anzi faccio notare il nuovo picco di direzionalità quindi qui potrebbe essere partito anche un impulso che non sia finito qua per cui attenzione fatte salve ripeto le possibili bear trap titolo quotato al Nasdaq Broadcom e questo è un top arrotondato da manuale con faccio notare che Broadcom rispetta molto bene la V-Stop tolgo un attimo ecco apro un attimo la scala per far vedere meglio il grafico ecco Broadcom in pratica da novembre 2022 ha sempre rispettato molto bene la V-Stop e la V-Stop in questo momento è nera è nera ha cambiato colore ha una leggera pendenza verso l'alto leggera in perfetta coerenza con quella che è la parte destra di questo top arrotondato io qui propenderei per una prosecuzione di questa fase correttiva con test di questi due gap a prosio di gap qua ce ne sono due importanti a cavallo degli earning ecco quando vi dico che sono importanti poi le le novità che creano i gap cambiano la situazione cambiano l'equilibrio domanda offerta qui qualcuno sapeva prima un paio di giorni prima ha cominciato a correre poi il giorno degli earning ha fatto la shooting quindi qualcuno sapeva ha comprato e venduto sulla notizia quindi questa fascia qua adesso non è mai stata testata questi due gap fanno da supporto area 705 secondo me il target di questo movimento che verrebbe annullato chiaramente se dovesse andare a rompere la bus stop che adesso fa la resistenza va bene direi per oggi è tutto lasciate come sempre nei commenti la segnalazione di situazioni interessanti grazie come sempre per l'attenzione appuntamento a domani buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti